Ciao a tutti quanti, oggi ho deciso di fare un test, questo test è un video tag, ossia con il senso di taggare un'altra persona e la stessa persona deve fare lo stesso test che tu stai facendo. Il test di oggi è quanto conosci le capitali del mondo? Prima domanda, qual è la capitale di Stati Uniti? Washington, Los Angeles, New York? Oddio. New York? Qual è la capitale di Germania? Bonn, Colonio, Berlino, Berlino. Qual è la capitale di Portogallo? Porto, Lisboa, Lisboa, Lisboona o Kainbrou? Lisbona? Qual è la capitale di Irlanda? Dublino, Carcoway, Waxford, Dublino. Qual è la capitale della Svezia? Gottenberg, Malmung o Stoccolma? Stoccolma. Qual è la capitale di Turchia? Ankara, Istanbul o Sminourne? Istanbul. Qual è la capitale dell'Austria? Hamburgo, Stoccolma, Vienna, Vienna. Capitale di Afghanistan? Kabul, Kainabar, Kainrat. Il risultato? Dice, sei esperta, sembra quasi che tu abbia avviato per il mondo se da piccola. Hai un'ottima conoscenza di geografia e questo fa per te una persona non solo colta, ma anche se è aperta nei confronti del mondo che ti risconda. Taggo, Anthony Batte. Vi mando tantissimi saluti e un bacio. Ciao!